Grazie, buongiorno e benvenuti a tutti, grazie per essere qui. Vi ricordo che tutti questi accenti sono in streaming, naturalmente in diretta, ma si possono rivedere, se qualcuno se lo fosse perso, andando sul sito festivaletteratura.it e cliccando sull'evento desiderato e questo lo potrà rivedere già dal giorno dopo e penso per un anno intero. Detto questo, io avrò l'ingrato compito di chiudere questo accento, di troncarlo dopo il trentesimo minuto, quindi non abbiatemene e a questo punto parte il time, parte il tempo e buon ascolto. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a questo incontro dal titolo un po' troppo ambizioso, quindi non vi spiegheremo come combattere le bufale, del resto non è nemmeno il nostro mestiere. E anzi, in particolare, parleremo di un tipo speciale di bufale, insomma. Bufale del cielo, dell'aria e del clima, perché ci sono più bufale in cielo e in terra di quanto noi possiamo elencarne in mezz'ora. Il motivo per cui Stefano Caserini qui è ovvio, Stefano è un ingegnere ambientale, si occupa di clima, è anche un blogger, trovate il suo blog su climalteranti.it, ha scritto anche dei libri, ora lui è modesto, però io no, e poi non è il mio, quindi eccolo qua, e lavora per il Politecnico di Milano. Questo vi spiega anche, è anche una prima risposta a chi vi paga. Allora, chi vi paga, lui lo paga all'università. Io faccio la giornalista scientifica freelance, quindi vuol dire che non mi paga quasi nessuno, tanto meno il nuovo ordine mondiale, le multinazionali del terrore, eccetera. Questo lo diciamo subito a scanso d'equivoce. Di cosa parleremo oggi? Parleremo appunto di bufale, del cielo o della terra. Ora, io sono qui non in quanto debunker, perché non faccio la debunker, io in genere scrivo di meduse, galassie, scrivo di scienza, però un giorno mi sono trovata a essere, diciamo, nel novero di quei dieci fessi che hanno ricevuto minacce di morte da parte dei fautori della bufala delle scie chimiche. Ora, immagino, se siete qui, che sappiate, almeno vagamente, cos'è la bufala delle scie chimiche. Comunque, insomma, qualcosa poi nel corso di questa mezz'ora, lo sapete bene, ci sarà un modo di dire. Io sono qui per questo, Stefano invece è quello serio della coppia, è uno che le cose le ha studiate bene, per cui mi sono presa così il diritto di cominciare io col microfono, anche perché in genere il microfono è più il mio mestiere nella fase della domanda che nella fase della risposta. Insomma, io vorrei subito che Stefano esplorasse un aspetto della bufala che secondo me è il più interessante quando si ha a che fare con gli scienziati. Cioè quella frase che tutti ti mettono davanti quando parli che è ma si vede benissimo, ma lo vedono tutti, si vede occhio nudo, ma come fai a non capire che la questione sta così? Invece quando poi ha a che fare con uno scienziato vedi che l'occhio nudo è il peggior traditore della tua credulità. E allora Stefano, tra le cose che si vedono ad occhio nudo ce ne sono di false. Per esempio? Buonasera a tutti, per esempio il fatto che possiamo pulire l'aria in cui l'aria che sappiamo che è inquinata attraverso soltanto gli alberi. Avrete sentito a volte, piantiamo un albero, c'è l'inquinamento, mettiamo l'albero e risolviamo il problema. Queste sono cose che sono andate sui titoli dei giornali. Sicuramente vi sarà capitato di leggere se vi sarà capitato di leggere piantiamo un alberello e così risolviamo il problema dell'aria. A volte invece le bufale sono un pochettino più complicate o anche più divertenti. Sempre sul tema dell'inquinamento dell'aria trovate dei bei siti intrati in cui vi propongono di vestirvi con dei jeans particolari trattati con dei composti al titanio e se un numero sufficiente di persone va in giro con questi jeans al titanio puliremo l'aria. Quindi noi tutti vediamo l'albero e siamo abituati a pensare all'albero come una cosa bella e quindi effettivamente poi l'albero ha un effetto di pulire un po' l'aria perché l'albero assorbe di decarbonica e quindi un pochettino la pulisce. Assorbe anche qualche altro gas. Il problema delle bufale è questo generalmente. Una prima caratteristica che il principio di base ha un senso. Non è completamente infondato. A volte capita che è anche completamente infondato ma spesso c'è un principio che ha un senso. Anche nelle scie chimiche è vero che queste scie che vediamo nel cielo hanno un effetto di variazione del clima. Il punto è che è molto piccolo così come un albero assorbe il PM10 o il biossido di azoto ma lo fa in quantità molto piccole bastano due conti per far vedere che non si riesce a pulire l'aria di una città inquinata piantando più alberi. Poi questo non vuol dire che non dobbiamo piantare gli alberi e gli alberi comunque dobbiamo averne perché ci servono per tante altre cose. Quindi molto spesso vengono stimolate delle nostre convinzioni che sappiamo che hanno insomma qualche fondamento ce l'ha quell'idea. Però la bufala generalmente lo porta all'estrema potenza ci dice ma noi possiamo aspirare l'aria farla passare attraverso un filtro e pulire l'aria e possiamo vedere non so io ho messo delle immagini di una chiavetta non so se riusciamo a vederne qualcuna c'è una che si chiama asp.jpeg se si riesce ad esempio a Roma se andate in giro in alcune zone trovate questi gabbiotti che sono dei gabbiotti in cui viene aspirata l'aria viene filtrata e viene buttata fuori aria pulita e trovate anche chi è andato al TG1 mattina a raccontare che si sta ripulendo l'aria il problema cos'è che quante ce ne vorrebbero di queste installazioni per pulire l'aria di Roma tenendo conto che quando parliamo di aria inquinata se parliamo della pienura padana facciamo due conti sono centinaia di miliardi di metri cubi di aria inquinata quindi con tutta la fiducia per queste macchinette o qualche pioggerella che si può fare qua e là ecco è una questione di conti di dimensioni ora a me dispiace una cosa che prima Stefano questa cosa dei jeans al titanio non me l'ha solo spiegata me l'ha anche mimata no no assolutamente no perché è molto interessante che non sono solo i jeans è tutto un outfit al titanio che viene pubblicizzato da una signorina che si muove in modo contorto però qui in effetti fa molto caldo quindi a proposito di clima già sarà importante arrivare alla fine no e questa cosa della contiguità con faccende reali con faccende scientifiche è una cosa che mette molto in difficoltà per esempio i giornalisti perché è molto difficile separare il grano dall'olio spesso non ci sono delle distinzioni veramente chiare tra un principio scientifico che potrebbe funzionare e la giustificazione di una teoria che veramente continuate a non sentire però così mi assordo da sola così va a me va bene ok no dicevo della contiguità tra quello che è una bufala e alle volte la bufala è truffa e invece una questione scientifica reale discussa dibattuta come per esempio nel caso delle sce chimiche la famigerata per chi non la conosce geoingegneria nel senso che poi diventa anche difficile per noi giornalisti avere a che fare con un pubblico che probabilmente riceve troppe informazioni e le riceve magari da web senza filtro senza che sia facile capire perché una è una stronzata e un'altra forse non tanto per noi è difficile perché questi confini non sono non sono affatto chiari appunto nel caso delle sce chimiche però se volete vi racconto come è andata è una cosa che ogni tanto io mi sono trovata a fare la San Sebastiano lì perché allora lavoravo per la stampa quotidiano nazionale e al mio caposervizio è venuto in mente di fare questo bellissimo articolo per una volta per tutte un quotidiano nazionale dica che le sce chimiche sono una bufala non so perché ci fosse un'urgenza di cronaca però io mi sono divertita molto a ricostruire questa storia e questa storia è una storia che non ha molto di originale cioè c'è stato un signore che nel 97 ha pensato di costruire un business contro il terrorismo climatico anzi in realtà all'inizio era il bioterrorismo poi questo ha messo lì un po' di cose c'erano le prime mailing list e lui in una mailing list alla quale si scrivevano persone che erano interessate nell'ambito del bioterrorismo del terrorismo di altri tipi lui ha prima provato a inventarsi un po' di guerre batteriologiche e gli è andata male e poi si è inventato che nei campi di non mi ricordo quale stato americano erano stati trovati metalli pesanti così e il sospetto corroborato da non si capisce quale prova un sacco di punti esclamative di maiuscole già allora era che venissero spruzzati dagli aerei questa ovviamente è una stupidà cioè nel senso può anche darsi però ecco l'onere della prova dovrebbe stare a chi la ferma non a chi dice guarda che la maggior parte degli aerei che vedi sono Ryanair di gente come me che va a Malaga cioè mettiamoci un toppino è così oggi tutti quanti prendiamo un low cost e questa cosa però appunto ha avuto una crescita dovuta anche ai giornalisti perché nel 99 ci fu un programma radiofonico che la rilanciò e da quel momento è molto suggestiva l'idea che esista un programma per avvelenarci tutti ora questa bufala appunto è simile a una cosa di scienza che magari poi tu ci spieghi perché invece non è così allarmante anzi anzi ha tutt'altro scopo che è la geoingegneria però ha i caratteri esasperati della bufala prototipica cioè le bufale hanno delle stereotipie che sono state studiate dai sociologi quelle ve le trovate da tutte le parti in genere sono risposte a un problema noi esseri umani quando abbiamo dei problemi troppo grandi cerchiamo delle risposte se sono facili siamo ovviamente felici se possiamo attribuire un problema o una cosa misteriosa un essere sovrannaturale abbiamo fatto bingo noi per tutta la vita abbiamo il nostro altarino cioè va bene così e in questo caso però nel caso delle sci chimiche quello che mi ha colpito mentre scrivevo l'articolo è che il problema non c'è cioè non è vero che stiamo morendo tutti per strada almeno a me non è mai capitato ma anche voi vi vedo non succede niente non esiste non esiste un problema reale di avvelenamento esistono problemi che ciascuno di noi può attribuire alle sci chimiche infatti se andate a vedere le cose delle sci chimiche ci sono quelli che dicono che fa venire le malattie della pelle quelli che dicono l'aumento dei tumori quelli che dicono il peggioramento della qualità tutte cose che sono tagliate su misura su chi lo stesso la seconda caratteristica della bufala cioè il nemico tu hai un problema ti trovi un nemico chi è il nemico nel caso della sci chimica dipende io ho trovato dal Vaticano agli americani con la K a chi vi pare a voi il nuovo ordine mondiale eccetera lo strumento con cui questo crea il problema anche lì è variabile ognuno di noi ha una paura qualcuno ha paura degli alieni no? gli OGM dai qualcuno dai gli OGM fanno paura a tutti ecco gli OGM allora le sci chimiche spruzzano gli OGM sei fregato perché le sci chimiche qualcuno ha paura dei protozoi se avete paura dei protozoi vi può anche andare bene ho trovato anche questa cosa qui dei protozoi non solo poi se andate a esplorare questa cosa con un pochino di occhio scettico ma veramente non ce ne vuole tantissimo vedete che è un mondo pieno di contraddizioni ebbene quello che è successo è che io ho scritto quest'articolo su commissione pagato poco come sempre un articolo normale così e sono stata vittima di un ridicolissimo mail bombing che adesso se fate vedere le fotografie si chiamano allegato a per esempio vabbè questa sono io questi hanno fatto questo vabbè era il mio profilo facebook così e c'è Rosario Marcianò che è la cabina di regia delle bufale in Italia non vorrei fosse qui Rosario poi se ne parla comunque Rosario Marcianò dichiara a tutti mandali un messaggio gliel'ho già inviato a modo mio bastonata e questo è sempre lui tra l'altro e quindi insomma comincia questa cosa vai allegato a B su diverse bacche che facebook perché se ne hanno tante è sempre lui anche Tankeran vabbè è sempre lui però poi la gente arriva io qui veramente siccome sono dovuta andare alla polizia c'è da centinaia di foto così ve le risparmio quello che è interessante è che vabbè buffo media di regime io divento media di regime divento pagata da questo e quell'altro e divento metti quella con la parola faccia essendo femmina è un attimo divento subito no questo è bellissimo l'onore della prova è il classico discorso di merda dei cicappini abbiamo capito tutto su una cosa mi tocca dare ragione a lei se davvero qualcuno ne ha scritto le cose che dice è stato veramente stupido ha finito col gettare merda però resta una gran mignotta questo è l'acme della dialettica che abbiamo raggiunto con ottima considerazione Deborah poi arrivano i blog arriva tutto arriva anche un simpatico video su youtube che esiste ancora quindi se cliccate sci chimiche chi sono i veri fuffari sono io mezz'ora di discussione su di me su dove abito su quanto sarebbe giusto che qualcuno mi venisse a prendere si dice in maniera abbastanza settica e ci sono delle foto veramente ma tipo io col gattino queste cose che uno fa in gioventù che sono state recuperate e messe lì per dire guardate c'è un gattino vabbè però io mi sono guadagnata una fama niente male invece con quella cosa che si chiama con la lettera G con il finto profilo facebook che penso veramente un giornalista non può desiderare di meglio quella cosa JPEG con la G la trovi? finisce per A dai che mi rovini la sorpresa G O non è giornalista dai su vabbè mi hanno fatto un finto profilo facebook che adesso vi vorrei far vedere non si trova cioè è la mia cioè nessun premio giornalistico mi gratificherà mai quanto il finto profilo facebook vabbè adesso ve lo facciamo vedere comunque insomma no niente la cosa è finita con l'avvocato che mi dice parla nel meno possibile invece sono qui a rifare la buffona sul tema però confido nel fatto che se adesso qualcuno ricomincerà a dire andatela a prendere sotto casa ci sarà più gente informata del fatto che io non ho nessuna voglia di essere presa sotto casa soprattutto per aver fatto il mio mestiere in maniera normale applauso meritato direi devo dire che comunque ha avuto anche molte mail di è durato pochissimo perché ho avuto anche una serie di difensori tutti maschi mi arrivano tuttora mail di di uomini che dicono bencivelli la proteggo io questo è durato l'espace cioè è durato veramente poco infatti vedete solo 100 like che sono pochi per però ho fatto in tempo a fotografarlo perché tra l'altro credo che abbiano fatto un bellissimo fotomontaggio cioè infatti vabbè e qui sotto non lo potete leggere ma dice dalla disinformazione all'infamia vigliacca da parte di una giornalala della stampa che si diverte maiuscolo come afferma virgola a scrivere delle esce chimiche punto io direi che sicuramente hai ricevuto comunque anche mail di solidarietà questo fortunatamente nel web a volte si trovano comunque anche quelli che sanno comunque vedere dove stampo la ragione però io vorrei dire qualcosa anche contro i giornalisti perché tu hai fatto vedere una visione bella della giornalista che sbugiarda quelle che sono le bufale eccetera eccetera a me è capitato invece di trovare a volte certo giornalismo anche quello più insospettabile a cui io davo più fiducia incappare nel insomma rilanciare delle bufale tremende cito una trasmissione report che tutti abbiamo visto che per due volte ha trasmesso una bufala quella dei tubi tipo i tubi di Tuker avete presente quei tubi che si mettono nell'automobile ti riducono il 30-40% i consumi e l'inquinamento ora se ci fosse un dispositivo da mettere nell'automobile per ridurre il 40% i consumi immaginatevi tutte le case automobilistiche se non sarebbero lì a fare la gara a correre per chi lo fa meglio quindi a volte la bufala può essere appunto magari discussa partendo cioè il dubbio può venire ma è possibile che proprio nessuno ci abbia pensato che debba essere report a raccontare di questa signora che si incatena per avere l'omologazione per il suo dispositivo quando insomma si trova facilmente un principio che non aveva fondamento chimico ecco però questa cosa che si rilancia oggi vengono venduti tubi di Dukic insomma queste cose qua io però voglio fare una precisazione quanto dicevi quando parlavi della stronzata perché in realtà molte bufale non sono stronzate sapete che c'è un filosofo frankfurt che ha scritto un libro che si intitola stronzate in cui faceva una lucubrazione abbastanza dotta non del tutto condivisibile secondo me sulla differenza fra una bugia e una stronzata e lui diceva insomma la stronzata è un'affermazione fatta senza avere a cuore dove sta la verità io dico una cosa la butto lì ecco mentre la bugia diceva per dire una bugia bisogna sapere dove sta la verità quindi ci sono delle bufale che vengono portate avanti sapendo che però le cose non stanno così vi faccio un esempio ho visto un fisico un famoso negazionista sul clima a Scafetta in una conferenza di Padova recentemente che la Groenlandia sì Groenlandia una volta era verde sapete Groenlandia Greenland terra verde quindi se l'han chiamata Greenland nell'anno 1000 e così via era verde quando insomma basta prendersi un qualsiasi libro sul clima e si vede che il ghiaccio c'è da 500.000 anni in Groenlandia c'era un fiordo verde come anche oggi un fiordo verde o si può prendere il sole su un campo di Margheritina in Groenlandia un mese all'anno o due ecco poi tutto il resto del tempo piove fa freddo c'è la nebbia un tempo veramente bestiale ecco quindi le bufale a volte sono fatte senza avere interesse sulla materia a volte invece c'è dietro un interesse molte di queste cose che si possono vedere vi faccio vedere un altro quello che si chiama lift e così via un altro divertente un autobus che andava in giro per Roma con sopra un filtro per catturare le polveri e assorbire l'inquinamento e depurare l'aria il punto è che uno dovrebbe chiedersi sì ma questa aria qua questo filtro qua consuma dell'energia e l'energia chi gliela dà gliela dà il motore quindi il motore consuma ancora più gasolio emette più polveri quindi se si fanno due conti io l'ho fatto nel mio libro alla fine quello che estraeva di sopra era meno di quello che metteva in più del tubo di scappamento però ecco qui chiaro che c'è un interesse per proporlo per trovare magari qualche amministrazione compiacente che lo porta insomma il business come si dice sì nel senso quello che tu dici è quello che prima ho riassunto in cabina di regia perché le bufale convengono molto spesso convengono a chi vende oggetti anche a chi magari ha la sensazione di avere il proprio piccolo potere su un angolo di mondo a chi viene gratificato dall'idea di essere il salvatore del mondo e purtroppo convengono anche a noi perché ci de-responsabilizzano l'idea che inquinare l'aria sia quell'aereo là e non il mio motorino per esempio è molto comoda piace a tutti al politico piace moltissimo mettere lì la centralina non deve pensare più di tanto a fare gli autobus a rivedere le linee mette la centralina e pulisce l'aria che lui stesso ha sporcato ti interrompo un attimo posso vedere l'ultima quella che si chiama bioionizzatore perché di tutte le più divertente quando tu adesso dicevi l'amministratore che vuole era lì che ti voleva questa qua è la più poetica secondo me su Acomo hanno messo appunto l'assessore alla fine ha deciso è stato convinto da uno dei tanti inventori che abbiamo in Italia a mettere questo sul tetto del municipio questo appunto questo bioionizzatore con un principio chimico astruso ecco che avrebbe dovuto risanare l'aria nel giro di 300 metri attraverso delle onde e così via quindi è quello perché l'amministratore dice bisogna tentarle tutte e quindi non sappiamo cosa fare è molto più difficile dire usate un po' meno l'auto costruiamo più piste ciclabili quindi via col bioionizzatore abbiamo trovato la soluzione noi dicevamo che avremmo parlato soltanto di bufale dell'area della terra ma qui che ha un minimo di contatto con la salute la medicina eccetera ha riconosciuto il classico refrain del non ho niente da perdere invece hai molto da perdere quando ogni tanto queste cose vengono proposte in ambito di salute abbiamo molto da perdere tutti anche come così come cultura e vicinanza al pensiero scientifico che è il nostro tradizionale noi abbiamo questo sono 26 secoli di cultura scientifica medico scientifica nell'occidente e se vogliamo riferirci a una cosa tradizionale quella è per noi più vecchia di così non si trova ma comunque ora vogliamo aprire alle domande perché abbiamo deciso che lo spazio per una o due domande lo lasciavamo quindi sono otto minuti io volevo però che tu alla fine tutto questo però almeno una cosa c'è deciso perché io faccio la giornalista quindi sono fuori non dovete darmi retta ma di tutto quello che abbiamo detto non abbiamo dato la colpa a tutti c'è una questione di fiducia dietro abbiamo parlato male dei giornalisti anche bene così incidentalmente però male di chi sta su web male dei politici male anche degli scienziati che spesso sono alcuni di loro o quello che hai citato tu proprio con una qualifica scientifica almeno apparentemente seria insomma comunque una filazione universitaria chi la vorrebbe discutere insomma alla fine noi non sappiamo tanto bene di chi fidarci ci dici prima di aprire domande al pubblico perché da adesso dovremmo fidarci di te forse di me in particolare no ecco della scienza forse perché la scienza è un processo di scetticismo organizzato il metodo scientifico si differenzia da tante altre il dibattito scientifico si differenzia dal dibattito che si può fare al bar o in altri contesti per il fatto che c'è un sistema che viene chiamato di peer review di revisione per cui le idee per avanzare devono essere controllate prima di pubblicare su Nature su Science un'idea viene sottoposta al giudizio di altri studiosi del settore e questo è importante che cercano di trovarci errori e viene pubblicata solo se sopravvive a questo meccanismo cui generalmente vengono che porta alla morte nel 90% delle idee per cui molte di queste bufale scientifiche non le trovate sulle riviste scientifiche magari trovate il trafiletto sul Corriere della Sera o su un altro quotidiano nazionale però è poco probabile che sopravviva a questo meccanismo della peer review poi succede che anche siccome è un fatto umano il processo scientifico anche su alcune riviste scientifiche autorevoli possono capitare degli errori però ecco è uno su mille gli altri 999 vengono bocciati quindi il dubbio quando avete dei dubbi su magari la serietà di alcune proposte una ricerca anziché su Google ad esempio farla su Google Scholar che è la versione di Google che fa un primo filtro fa dei siti scientifici vi può dare un aiuto per cercare di capire cosa dicono gli studiosi del settore e generalmente dicono cose che possono essere utili grazie vediamo se qualcuno vuole rompere il ghiaccio domande brevi e intense volevo portare a conoscenza che per esempio come bufale negli ultimi due anni in alcuni paesini della Gordino e delle Dolomiti bellunesi è stata avanzata l'ipotesi siccome c'era una recrudescenza dei topi in un anno e delle vipere nell'anno successivo che fossero stati lanciati dall'elicottero e allora io ho chiesto ma dove sono gli allevamenti di questi animali perché io voglio andare a vedere questi allevamenti di questi animali quindi nella forestale sapeva niente nessuno sapeva niente di questi e allora sono stati costretti a stare zitti chi li mandava giù questi la forestale con gli elicotteri perché c'era bisogno per i topi di fare in modo che le vipere aumentassero per l'equilibrio ecologico delle montagne e così anche le vipere perché i rapaci dovevano nutrirsi di questi e quindi venivano buttati con l'elicottero c'è un esperto di piccoli mammiferi in grado di dirci se un topo sopravvive a un lancio dell'elicottero no perché c'è di tutto a questo festival un erpetologo ce l'abbiamo qua no ce l'abbiamo un erpetologo l'esperto di piccoli mammiferi ovviamente il piccolo mammifero sopravvive con un piccolo fuoracadute ed è lì il core business della cosa vorrei due parole su focus focus la rivista allora a parte che è molto scorretto chiedere di parlare male dei colleghi non si fa no io conosco delle persone che lavorano a focus sono veramente molto brave ve lo assicuro su cose molto di nicchia che è una roba che noi giornalisti scientifici in genere non ci possiamo permettere a meno che non lavoriamo con le riviste mediche o con gli scienziati altrimenti una come me è di forza generalista io sono laureata in medicina l'ultimo articolo che ho scritto era sulle galassie mi diverto la faccia a fare questo tema qua però il rischio d'errore effettivamente spesso c'è devo no focus io ho scritto degli articoli per focus vi assicuro che è molto difficile perché la prima volta che ho scritto per focus è dieci anni fa quindi ero anche giovane e inesperta eppure con delle velleità letterarie cosa che un giornalista si deve togliere subito di mezzo la prima cosa è allora niente frasi passive niente frasi subordinate e se sono ammesse tipo una relativa per periodo niente cioè era veramente non più di quattro aggettivi per frase alla fine era una lezione di analisi logica e grammaticale perché quelle cose lì vengono studiate a tavolino controllate 20.000 volte hanno una linea editoriale di ferro che ha premiato fino a qualche anno fa adesso focus vende molto meno questa è una ragione in più per non parlarne male ma io ho una cosa da dire comunque focus venderà comunque poco oggi il problema della divulgazione scientifica la grave cosa che dobbiamo dire in televisione ecco che il programma che viene spacciato per divulgazione scientifica è voyager come è che si chiama lì cioè questa è una cosa veramente che grida vendetta poi ce n'era anche un altro io una volta ho visto un cantante Ruggeri mi ricordo ce l'ho sul computer che faceva un programma il cantante Ruggeri e aveva intervistato uno che veniva da Clarion in seconda serata o prima serata e questo qua seriamente parlava che lui era stato su Clarion e così via quindi il problema oggi i grandi numeri li abbiamo in televisione in televisione purtroppo di programmi scientifici ne abbiamo veramente pochi o non so c'è un po' Piero Angela ma ormai anche lui domande la c'è una signora a proposito di Piero Angela come intermezzo puoi mettere sappiamo quel che fate immagine vai signora aspetta che arrivo io Piero Angela sappiamo cosa fate non lo permetteremo stop sci e chimiche sappiatelo anche voi neanche così ve lo voglio far vedere Piero Angela prima di me insieme a Luca Mercalli siamo pochi quelli che hanno fatto la fine del fesso però mi piaceva citarlo volevo fare una domanda su una questione un po' più triste purtroppo la questione stamina mamma mia abbiamo tre minuti a me risultano due abbiamo premesso appunto che avremmo parlato di cielo terra e clima perché c'era Stefano ovviamente per me è molto più semplice parlare invece di di questioni che hanno a che fare con la medicina è un argomento molto delicato non mi azzarderei a parlarne in pubblico senza aver prima veramente studiato le parole da utilizzare quello che secondo me si è sbagliato e si continua a sbagliare nel trattare argomenti medici di questo tipo è che ci inventiamo una parte dei malati e lasciamo che l'altra parte dica a noi specialisti voi non vi sapete mettere dalla parte dei malati allora vorrei dire a tutti che dalla parte dei malati ci siamo tutti tutti siamo un giorno sani un giorno malati tutti abbiamo avuto lutti tutti conosciamo persone malate tutti vorremmo che le persone malate guarissero domani anche se facciamo il giornalista scientifico e anche se siamo costretti a dire che una cellula mesenchimale una cellula staminale mesenchimale non diventerà mai un neurone in quel modo lì siamo costretti a dirlo e ci piacerebbe tantissimo dire il contrario e nel dirlo siamo dalla parte dei malati esattamente come chi c'è adesso in questo momento accanto al letto un'altra domanda allora un'ultima domanda brevissima chi lo vuole fare breve breve un sciachimachista possibile che non c'è no tranquillo no volevo solo sapere un po' di più sull'origine della bufala dei legami tra i vaccini e l'autismo perché si è saputo che era falso ma non ho capito come mai te la faccio veramente molto breve io ci faccio lezioni all'università quello è il paradigma ci fu un medico inglese che al momento non è più iscritto all'ordine dei medici inglesi che si chiama Wakefield e abita in America che aveva pensato bene di guadagnare su un brevetto per una formulazione di vaccino diversa da quella che in quel momento era in vendita che era quella trivalente lui l'aveva depositata anche prima di tirar fuori la bufala dell'autismo la questione dell'autismo gli è stata proprio una franca frode lui tra l'altro ha fatto delle cose profondamente antideontologiche con i bambini malati compreso suo figlio ecco e quindi stiamo parlando veramente di un caso estremo ed è venuto fuori l'articolo è stato ritrattato quando in medicina un articolo viene ritrattato vuol dire che veramente non è accettabile quello che c'è dentro ha fatto un sacco di danni o noi tendiamo a dire che l'Italia è peggio degli altri paesi no tranquillizziamoci in questo caso la storia è tutta inglese e in Inghilterra adesso hanno una recrudescenza di casi di morbillo gravi di morbillo si muore i nostri nonni morivano di morbillo ma noi dobbiamo a limite parlare con la nostra si moriva di tubercolosi intestinale perché il latte non veniva bollito cioè ricordiamoci queste cose sono piccole e si moriva di tetano perché i bambini giocavano nei giardini noi abbiamo giocato nei giardini quanto ci è parso e piaciuto grazie a questi vaccini ora i vaccini fatti come sono fatti adesso io non posso dirvi che sono sicuri al 100% perché nessuno scienziato parla di 100% mai però quei margini di rischio che avevano quando noi eravamo piccoli quando ce li siamo presi noi adesso sono veramente molto ridotti e questa cosa dell'autismo si è assolutamente e decisamente dimostrato essere una bufala grave che nasceva dalla frode di uno che ci voleva guadagnare e voleva guadagnare dalla pelle dei bambini quindi secondo me non ha veramente nessuna giustificazione morale e il tempo non è una bufala almeno per adesso per adesso ci sono le bufole del tempo ma è un'altra cosa allora ringraziamo i nostri ospiti ma vi ricordo che i libri dei nostri ospiti sono disponibili in un banchetto che è nascosto ormai da migliaia di persone che è laggiù in fondo e i nostri autori sono disponibili ad autografarli a chiacchare con il pubblico ovviamente neanche a dirlo vi chiediamo di fare una fila ordinata in modo che tutto possa scorrere ma questo mi sembra superfluo raccontarvelo grazie buona serata più tardi grazie a tutti grazie a tutti Grazie.